buonasera a tutti ragazzi bentornati sul mio canale sono megateaker e come promesso circa una settimana fa sono qui per farvi la recensione completa del nuovo controller nacon il revolution pro control 2 appunto ho fatto di più per voi sono riuscito a reperire tramite il mio caro amico roberto tad online un controller pro 1 e ho fatto oltre una carrellata di quelle che sono le differenze estetiche ho fatto anche un po di prove in game una domanda che tutti mi hanno posto è questo controller 2 rispetto all 1 con destiny come si comporta perché se ben ricordate io avevo bocciato il controller 1 per il gioco di destiny per alcuni problemi che aveva presentato la risposta ve la doppio avanti adesso andiamo a vedere esteticamente cosa cambia nei due controller dal punto di vista delle confezioni come vi ho detto l'altra volta cambia veramente poco un 2 qui un una scatola leggermente differente nel retro ma di fatto di fatto la scatola è la medesima e anche il contenuto come vi ho fatto vedere nell'unboxing è il medesimo invece il controller ha qualche piccola modifica così sulla prima sembrano identici infatti non so se se li state guardando se avete capito qual è l'uno e qual è il due diciamo che la differenza che salta subito all'occhio è l'attacco dell'uno dove c'era questo odiosissimo e delicato attacco nel pro controller 1 adesso abbiamo avuto lo spazio per questo comodissimo attacco usb c che vi ricordo si può innestare in tutti e due i modi non non cambia il verso l'altra modifica sul case diciamo sulla struttura del controller è semplicemente questa qua dietro nel 2 abbiamo la modalità pc selezionabile con questa levetta e nel 1 invece questa modalità non c'è perché era soltanto o attivare su due i profili o 1 modalità standard ecco qua col rosso vuol dire che si sono attivati i profili con il il blu vuol dire modalità standard esteticamente sono esattamente due controller identici io sulle prime non mi ricordavo più come fosse il tasto l1 r1 del controller e mi sembrava che appunto nel 2 l'avessero fatto leggermente più corto questo era diciamo anche una speranza nel senso che avevo controlla avevo riscontrato dei problemi con i tasti appunto l1 r2 e durante il gioco io fino a poco tempo fa ero abituato a sparare con l1 r1 cosa succedeva che con questo controllo nell'uno perdevo la mira avevo io non ho non ho capito da cosa dipendesse l'impugnatura mentre gioco è questa che vedete io andando a premere qua in cima al tasto ogni tanto mi andava via la pressione e non riuscivo a sparare questa più di tutto è stata la motivazione che mi ha fatto decidere di vendere anzi in realtà di regalare il controller pro 1 adesso oba è passato questo problema per due motivi uno secondo me qualche piccola modifica allo switch interno l'han fatta perché sebbene io adesso abbia imparato a giocare come tutti usando i tasti sotto ho provato forzatamente a usare quelli sopra diciamo che la mira mi è il tastino si è rilasciato veramente veramente di rado però non posso dire che non è mai successo quindi diciamo subito una cosa se siete abituati a sparare con il tasto a mirare a sparare col tasto l1 ed r1 e non avete nessuna intenzione di cambiare abitudine questo controller non fa per voi perché perché è scomodo appunto la pressione può venire meno non so se è stato soltanto una fortuna o che altro nella con due è successo meno che nella con uno però è successo e questo può essere veramente un problema in game in un fps non non ha senso altre cose la domanda grossa era il software è migliorato la sensibilità di queste levette col gioco di destiny sono migliorate perché nell'uno succedeva che smirava allora io ho fatto una premessa era tanto veramente tanto che non usavo il nacon e ho caricato l'ultimo firmware sul primo e sul secondo vi dico la verità non so se effetto placebo che altro il 2 mi sembra leggermente più preciso ma entrambi mi hanno stupito molto con destiny io adesso ho acceso anche destiny 1 perché proprio era volevo essere sicuro che se avessero fatto o meglio un salto in avanti con le impostazioni consigliate da bambi e no da bambi scusate da da nacon e con i due controller all'ultimo aggiornamento firmware effettivamente io i problemi che avevo riscontrato grossi all'inizio dell'uscita del nacon non li ho riscontrati quindi per chi gioca destiny secondo me può è diventata un'ottima opportunità questo questo joypad innanzitutto abbiamo come come per entrambi i tastini sotto che sono veramente comodi e poi appunto ripeto il firmware ha fatto dei passi avanti la differenza tra l'uno e il 2 secondo me c'è non ho capito se è una questione appunto di sensibilità o di taratura o di non lo so di hardware del joypad o forse se dipende dalla possibilità appunto di tarare anche la levetta sinistra e quindi dare il joypad di fatto risulta più preciso con la combinazione delle due levette io questo non sono riuscito a capirlo oppure semplicemente un bel effetto placebo mi hanno dato una pastiglia piena di acqua mi hanno detto con la medicina e io sono guarito è difficile ragazzi definire effettivamente quale sia meglio a questi livelli uno dall'altro perché è veramente poca la differenza quindi vi starete però chiedendo ma io spendo 30 euro in più perché allora sinceramente sinceramente non so dare una motivazione non saprei che dire io ero convinto che avessero migliorato veramente tanto i tasti l1 r1 c'è stato forse un miglioramento ma non così sostanziale la comodità dell'usb è indiscutibile è una comodità ma non non so se valga effettivamente 20 euro in più la possibilità di usarlo col pc è un altro plus assolutamente io di fatto non uso non uso giochi su pc quindi che dire ho regalato con uno e ho speso 100 130 euro per avere una con due mi sono pentito no assolutamente no a dire il vero perché sembra una stupidaggine ma me il fatto di poter attaccare staccare questo questo benedetto cavo in maniera del tutto naturale mi appaga molto poi anche il fatto di avere la levetta analogica di sinistra configurabile secondo me è una cosa in più che mi è sembrato essere positivo altre differenze io non ne ho trovate i tasti sono perfettamente uguali ecco dopo vi faccio vedere la differenza tra i software nel filmato io l'ho già girato vedrete tutta la differenza che sostanzialmente è solo un'interfaccia diversa però ci sono due differenze sostanziali nel controllo primo si possono adottare delle macro e poi vi spero nel video col computer cosa sono nel controller 2 invece c'è una cosa ottima ossia la freccia il tastino delle delle direzioni si può assettare che funzioni su quattro direzioni o su otto per i picchiaduro e per i per gli altri giochi o per esempio con destiny volevo ballare o muovermi abbassarmi insomma volevo dare dei comandi a volte mi prendeva degli altri comandi perché nell'uno probabilmente c'era solo l'impostazione delle otto direzioni col da con due questo non mi è più successo e questo effettivamente un altro piccolo plus che 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 c'è è indiscutibile altre cose non mi vengono in mente ho provato ecco no scusate questa mi è stato chiesto di provare le cuffie perché nella con uno c'era un problema allora vabbè le cuffie ho provato cuffie scabecce queste sono veramente cuffie terrificanti e ho provato l'auricolare della della play col microfono succede questo sia sulla con uno e non l'hanno migliorato nella con due il microfono per chi è in parti con voi è bassissimo no non si riesce a capire perché non siano riusciti dal controller po uno al controller po due a risolvere questo problema l'altra volta durante la sessione di gioco non mi sentivano quasi sono dovuto ricorrere a alle cuffie normali quelle wireless che uso normalmente perché con la prova del microfono non non c'era verso di farmi sentire o meglio si sentiva quando c'era silenzio ma durante il game non ci si sentiva l'audio invece per voi che ascoltate esce pulito forte e chiaro e quindi non ci sono problemi di sorta basta io direi di passare alla carrellata dei due software e dopo di che vi saluto questa è la differenza di software volevo farvi una veloce carrellata appunto del software del nacon 1 rispetto al software del nacon 2 andiamo a vedere cosa cambia l'interfaccia a dire il vero sono molto simili nel nacon 1 i profili sono messi qui a lato come vedete si possono scaricare dei profili da internet e ad esempio per il nacon 1 troviamo il profilo per code per destiny fps in generale fps pro street fighter eccetera a me diciamo che quello che è sempre interessato è quello per destiny quindi l'ho scaricato sono andato a metterlo all'interno nel profilo 1 e le impostazioni del joystick destro sono queste qua 25 50 25 nacon consiglia queste impostazioni per giocare a destiny una zona morta dalla levetta di 5 una sensibilità della levetta ridotta e basta in sostanza in buona sostanza è questa l'impostazione della levetta destra si torna alla home si possono mappare i tasti e attribuire a me 1 e 2 e 3 e 4 i tasti che si vogliono in questo caso c'è la x del salto il triangolo x è quadrato un'altra cosa torniamo indietro ecco la differenza sostanziale tra il software dell'uno e software del nacon 2 è la possibilità di attivare macro queste macro vuole essere quando ne ho ricordo che il joypad non è mio ma mi è stato gentilmente prestato dal mio amico tad e quindi non ne va impostate comunque io le avevo provate di fatto una combinazione di tasti attivabile con una con la pressione di un tasto unico quello che dicevo nella recensione che avevo fatto che di fatto erano inutili perché questa attivazione dei tasti funzionava solo se il pg era fermo e quindi tu schiacciare un tasto ti faceva tutta la serie completa di tasti aggiuntivi che avevi messo dal macro ma se tu ad esempio stavi correndo o stavi sparando che altro il la macro non funzionava comunque da con ha tolto e poi ve lo farò vedere nel software da con due la possibilità di questa attivazione di macro perché perché ha voluto rendere il controller ufficiale per i tornei appunto ufficiali con le macro non ci non si poteva accedere a questi tornei il trigger e qua è comodissimo la levetta r1 ed l2 cioè scusate alle due ed r2 si può decidere in quanto renderla sensibile cioè ad esempio adesso impostato che già a metà corsa ho raggiunto il massimo della pressione negli fps ovviamente è molto molto indicato perché ai più velocità di sparo diciamo che il software si esaurisce qua si possono si possono vabbè abilitare le macro la vibrazione si può attivare o disattivare la retroilluminazione di questa anellino rosso e la scelta rapida io sinceramente non ricordo cosa sia è un po che non ho sotto mano il na con uno i miei profili sono quelli che ho scaricato posso scaricarne altri poi ci sono i profili proprio appunto di na con impostazioni generali posso decidere quanto far vibrare a destra a sinistra e posso decidere l'intensità della della retroilluminazione anche una pulsazione dell'anello rosso lenta medio veloce questo è da quasi si aggiorna sotto questo è la carrellata del software del na con uno passiamo a vedere le differenze con il software del na con due allora chiudo eccolo qua questo qui è il software con due in questo momento li ho tutte e entrambi appunto sul sul pc attaccati vado un po su con l'immagine ok si presenta così revolution pro controller 2 se la possibilità di accedere alla modalità pc e la modalità ps4 perché ricordo che appunto una di grossa differenza tra la con una e due la possibilità col 2 di usarlo col pc a noi adesso interessa o meglio me interessa l'attivazione del ps4 e qui abbiamo un'interfaccia leggermente diversa abbiamo aggiornamento software l'aggiornamento è già il più recente impostazioni generali dove si può scegliere la vibrazione retrominazione eccetera questo cambia la grafica ma di fatto la sostanza la stessa personalizza i profili e qui abbiamo un'interfaccia a me più gradita forse anche più immediata che ti dice praticamente tu in un'unica pagina tutte le informazioni i trigger come sono settati la curva del profilo in utilizzo della levetta destra ed ecco la novità la curva di utilizzo della levetta analogica di sinistra il na con uno questa possibilità non la dava nella con due si può settare anche questa levetta alla fabbisogna io adesso ho impostato nel nel 1 e nel 4 i profili consigliati per destini nel 4 punto è quello 25 50 25 che è classico per destini mi sono impostato i tasti sotto m1 ed m3 di fatto di uso per saltare l'altro per scivolare altre differenze del software andiamo a vedere crea profilo ti fa creare un profilo personalizzato che poi si può salvare e mettere scarica profili in questo momento è molto molto scarno se si va su scarica profili vedrete che di fatto non ho ancora trovato alcun profilo non so se se sarà mi ricerca che non non è soddisfatto da dai criteri ma in realtà destini ricercare come vedete non trovano profili probabilmente questa questa cosa verrà implementata anche perché ricordo che in la con due è uscito il 15 settembre quindi no non preoccupatevi per questo sicuramente arriveranno frotte di aggiornamenti niente questo è tutto per quanto riguarda le differenze di software in conclusione che dire spesso mi mi si critica perché di fatto non do un consiglio se prenderlo o meno ma perché il mio scopo sinceramente nei video è sempre stato quello di portarvi pro e contro e poi ognuno di voi si poteva trarre le proprie conclusioni io mi sento questa volta di dire effettivamente che l'acquisto di questo controller è un'ottima ottima ottima alternativa a quelli che sono i controller moddati o comunque costruiti sulla base del controller normale perché di fatto la fattura ma come già era nel controller 1 è veramente buona ottima io quando ho fatto la prova del razzer contro contro nacon avevo detto costruttivamente forse il nacon è leggermente meglio è veramente è veramente un bello oggetto diciamo che non avendo più quei grossi problemi che aveva avuto le primissime versioni firmware io mi sento di consigliarlo a tutti l'unica eccezione veramente mi ripeterò fino fino alla nausea per quelli che come me prima sparavano sparano con l1 ed r1 a loro questo controller lo sconsiglio o se fate come me imparate a usare tasti come tutti e da quelli che che non avrete più brutte sorprese vi ringrazio ragazzi scusate se mi son dilungato ho cercato di dire il più possibile mi sembrava un ottimo argomento se avete delle domande o delle richieste fatemele pure in privato o sul sul video qua sotto nei commenti iscrivetevi al canale perché avrò altri argomenti altre chicche da vedere insieme a voi grazie a tutti bella a tutti ciao ragazzi